Una squadra a tratti perfetta, dominatrice nei primi due sette, capace di tornare a giocare ad altissimi livelli. Dopo la sconfitta, nel terzo parziale, l'ex prima Molfetta si impone 3-1 contro il G-Group Monza e inizia come meglio non potrebbe il rush finale della regular season della Superliga maschile. La differenza la fa il servizio, fondamentale in cui i Molfetti si accedono sin dall'inizio. Da lì derivano da un lato i problemi della ricezione monzese e dall'altro la bravura dei biancorossi a muro in contraattacco. Da sottolineare i 5 muri e 4 ace di sabbi, 65% in attacco di Joao Rafael con 18 punti e l'ultima performance di Vitelli con 2 ace, 2 muri e l'80% in attacco. L'ex privia scende in campo con Chiaghinio palleggiatore e sabbi opposto a di banda Joao Rafael e Olteanu, centrali Polo, Vitelli, libero Depandis. Monza invece inizia con la diagonale Iovovic-Vissotto, schiacciatori Botto e Fromm, al centro Berretta e Beres, libero Lex Rizzo. Avvio ovviamente dell'ex privia che con sabbi e Olteanu più i muri di Vitelli e Tiaghinio va avanti 8-4. I Molfetti si sono in giornata e lo dimostra il successivo break di 6-0. Due muri di sabbi su Botto, l'ace di Polo e i contrattacchi di Vitelli e Joao Rafael consentono infatti all'ex privia di chiudere sul 25-18. Grande inizio dell'ex privia anche nel secondo set con i Molfetti si avanti 6-3, complice al granitico muro di Polo su Vissotto. L'ace di Joao Rafael e l'ennesimo muro di sabbi consentono ai biancorossi di doppiare Monza. L'ex privia domina e conclude anche il secondo parziale con il punteggio di 25-17 ed un sabbi scatenato. Il terzo parziale inizia invece all'insegna del grande equilibrio. Vissotto e Botto spingono Monza, Joao Rafael e i sabbi fanno sorridere Molfetta. Sotto 22-19 Monza recupera con vemenza e grazie a un break in battuta di Fromm e all'ace di Veres che permette ai Lombardi di accorciare le distanze. L'ex privia torna in campo più convinta che mai nel quarto parziale, i Molfetti si volano 5-1 e Falasca chiama subito il timeout. Joao Rafael continua a stupire con tocchi liftati e attacchi di seconda, sabbi continua a punire la difesa monzese in tutti i modi possibili. Vitelli fa lo stesso per il 21-14 che mette in cassaforte la partita. L'ex privia gestisce il vantaggio e vince 25-19 per la festa del Palapoli. Mercoledì la squadra di Gulinelli affronterà in trasferta la Dietec Trentino, seconda forza del campionato. Grazie. Grazie.